va bene così no assolutamente no alza un braccio questo qui si il dito fai così col dito indica 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 me si indica noi così di più indica più noi arrabbiata indica arrabbiata noi così stai ferma analizziamo va bene no così non va bene assolutamente che devo fare alza il braccio destro ok adesso alza il piede sinistro così sì esattamente adesso inclinati tipo la torre di pisa verso l'altro lato per favore l'altro lato così così ops questo non l'avevo calcolato ti sei fatta male dai eric che importa uno vale l'altro è pur sempre una statua fai la ballerina ma che ballerina è una ballerina ma ma che cosa dici non ne sei capace te l'ho detto rinunciaci buongiorno ragazzi io sono eric e io sono dominica e che siamo la villa che siamo insieme 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 dobbiamo lavorare sul mio piano forza aiutami io ci sto provando ma secondo me fallirà non ci siamo domenica non ci siamo sei cattivo ieri eric mi ha fatto uno scherzo ha fatto finta di essere una statua guardate lì c'è ancora la dicitura ero così bello che sembrava il david di mariangelo di chi mariangelo michelangelo è il david di michelangelo quella è la statua lo scultore è michelangelo ok forse ho un problema coi nomi e comunque non sembravi per niente una vera statua io ti ho scoperto subito tu non sei bravo a restare immobile io però sono più brava di te e inoltre io sono troppo intelligente per credere uno scherzo così stupido insomma però conosco qualcuno che potrebbe cascarci il gatto vabbè non il gatto poi il gatto è troppo intelligente per questa cosa effettivamente ma dominic guarda che io non posso cascarci me l'hai appena detto magari se non me l'avessi detto probabilmente ci sarei cascato ma dai ma non parlo di te io parlo del dottor timoti cosa tu stai cercando di essere una statua per fare uno scherzo al dottor timoti ma tu lo sai che è pericoloso è fuori di testa e poi vorrei ricordarti che il dottor timoti è uno scienziato molto intelligente un hacker sì però dobbiamo anche ammettere che è un po credulone no è per questo che mi serve il tuo aiuto devo allenarmi per essere una statua perfetta devo trovare la posizione giusta e devo rimanere immobile dominic ti sei bloccata ehi ehi wow fantastica dominic però adesso basta sai dominic abbiamo impegni noi noi insiemini insomma dominic ehi dominic ehi ha visto che sono trauma Paura, 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 paura Fingendomi una statua sarà il modo perfetto per spiare il dottor Timothy E scoprire che cosa fa quando crede di essere da solo Magari scopriamo la sua identità Voi ragazzi lasciate like se pensate che la mia idea sia fantastica E se volete scoprire qualcosa sul dottor Timothy E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla E ora Eric che ti tiri su per favore Paura, paura, paura Ho deciso, starò semplicemente così Ferma e immobile, mi serve una posizione ben salda, ben ferma Non devo distrarmi Io non ho mai visto una statua con i calzini La mia statua sarà così La tua statua? Tu prevedi che avrai una statua? Certo Dove? In qualche piazza Va bene, se lo dici tu E quindi adesso inizia il mio allenamento Da questo preciso istante non dirò più nulla Non mi muoverò, non cambierò espressione Bene, bene Dominique Io ovviamente voglio darti una mano Voglio aiutarti nel tuo allenamento Quindi sarà un piacere scoprire se sei veramente abile in quello che stai facendo Quindi ti infastidirò E se sei una vera statua non reagirai in nessun modo Adesso facciamo finta che io sono il dottor Timothy E che ti sto esaminando per scoprire se sei veramente una statua Bene, bene Sono il dottor Timothy Adesso guarderò questa statua E vediamo se è una vera statua È una vera statua Tocchiamo il materiale È di uno strano materiale molliccio Ma è una vera statua Ma il dottor Timothy potrebbe anche fare di più e disturbarti Hai per caso del plurito a un naso? Ehi, hai plurito? Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ok, ok, bravo, ti vedo immobile E se provassi a farti ridere? Guardami Dominique, guardami Incredibile, guardate che freddezza Sembra che neanche mi vede Mi stupisce Forse ha ragione È più brava di me Brava Dominique, brava E se Ti dirassi un cuscino? Wow Neanche si è mossa Incredibile Forse può farcela davvero E voi che cosa ne pensate? Ok Dominique, non ho più idee Complimenti Date le tue doti Ti consegno la patente di statua ufficiale Eh, sì, lo so Queste qui sono le gommine dei vinsieme Però non avevo una vera patente Capisci, non esiste Allora, tieni Non ti piacciono? Sono belle Dominique Wow Non si distrae neanche così Vabbè, lo apro io Bene Dominique Adesso sei pronta Puoi incontrare il dottor Timothy Dominique Riffondimi Quindi io che cosa faccio? Me ne vado? Faccio finta che ce ne andiamo entrambi? Lasciamo la casa vuota? Dominique Riffondimi Quindi che faccio? Faccio questo? Beh, chi te ci acconsente, no? Bene ragazzi Allora noi faremo finte di uscire E come fa sempre Il dottor Timothy Credendoci fuori Verrà qui in casa nostra E speriamo che non scopra Che Dominique in realtà Non è una statua E allora vado Dominique Fai attenzione Io non mi allontanerò troppo Sarò qui Vicino Di guardia Buona fortuna Mi raccomando Scopri qualcosa Stai attenta Riffondimi Ma salutami almeno Vabbè Ciao Speriamo bene Statua di Eric Ma questa è Dominique Che strano Wow Non capisco Incredibile Sembra vera E identica Come è possibile? Ma come avranno fatto? Non lo so È identica È identica Voglio una statua così Anche io Sì Io sarei una statua Molto più bella Sì La voglio Assolutamente Devo scoprire come è fatta Devo portarla via Devo portarla via La rubo La porto nel mio laboratorio Devo esaminarla Incredibile Incredibile Ma non si muove È pesante Non ci riesco Ma è pesantissima Non si muove Non si muove Non si muove Posso farcela Così Così Si muove È pesante Posso farcela Posso farcela Ci ha mancato un palo Ehi Dominique Disturbo Eric Che c'è Scusami Ma sono tornato subito Per riportarti il tuo telefono Sai Prima che arriva il dottor Timothy Se mai dovessi avere bisogno di aiuto Almeno puoi chiamarmi Lo stavi dimenticando Ma il dottor Timothy È già stato qui Cosa Quando E come Così in fretta Che cosa è successo Mi stava rubando Il dottor Timothy Mi stava portando via Voleva afferrarmi Ha detto che sono pesante Insomma A quanto pare Era una bella statua Ci ha creduto E come se ci ha creduto E dice che voleva Anche lui Una statua così E voleva esaminarmi Oh Eric Se tu non fossi arrivato in tempo Mi hai salvato la vita Cosa Davvero Davvero Sono un eroe allora Adesso sì che me la merito Una statua Ma se non sai nemmeno come hai fatto È stata fortuna Però grazie Eric È vero Alla fine non ho scoperto niente Ma ti ho dimostrato Che sono una statua migliore di te E io Ti ho dimostrato Che sono un vero eroe Sì Più o meno Insieme 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 Insieme